Le richieste sono state tante su questi ultimi anni, di conseguenza gli appartamenti poi finiscono. La ricerca di una casa in affitto si è trasformata in un incubo per lavoratori, giovani, coppie e famiglie interessate ad abitare nella città di Fano. Infatti, negli ultimi tre anni la domanda è aumentata di smisura, ma d'altra parte l'offerta è calata drasticamente. A spiegarci i motivi è l'esperto Sandro Tonelli, che nell'agenzia immobiliare di Via Cavour accoglie ogni settimana 50-60 persone che chiedono informazioni proprio sugli affitti. Come mai si preferisce, secondo lei, affittare e non acquistare? Perché abbiamo visto che ultimamente è cambiato proprio, soprattutto, il mondo del lavoro. Nel senso che la gente non ha più la certezza di avere un posto fisso, quindi sono molte persone che vengono assunte a tempo determinato e di conseguenza impegnarsi ad acquistare una casa potrebbe diventare un problema. In più, ci sono molte giovani coppie che vogliono provare a vivere, a convivere insieme e prima di impegnarsi a livello economico magari cercano appunto di andare in affitto e vedere come va. La pandemia, ci spiega Sandro, non ha inciso particolarmente sul mercato immobiliare, ma semmai sulle esigenze. Infatti, vengono richiesti più spazi all'aperto come balconi e giardini, molto sfruttato. Poi è il bonus 110%. Noi questi ultimi mesi abbiamo avuto un aumento di richieste di case da ristrutturare. Da ristrutturare e quindi comprandole ovviamente a prezzi più bassi e avendo la possibilità di usufruire di questo bonus molte persone si sono indirizzate verso soprattutto case di fila, case singole, ovviamente dove si può applicare poi il bonus 110%. Tra i vari problemi però rientra innanzitutto quello di riuscire ad ottenere un mutuo. Oggi conviene prendere un mutuo perché i tassi sono veramente bassi, ma è anche vero che le banche comunque non danno i mutui così facilmente a tutti. Vogliono delle garanzie molto solide. Prima di tutto un lavoro a tempo indeterminato e di conseguenza buste paghe sicure. 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 Sicure.